Buongiorno e benvenuti su Scenari Economici. Oggi parliamo rapidamente di quello che è la proposta fatta dal governo dal ministro Musumeci per un'assicurazione obbligatoria per le abitazioni contro i cataclismi naturali. Questa sembra apparentemente una buona idea anche se viene a privatizzare una delle funzioni dello Stato che è proprio la garanzia contro i grandi eventi e contro ciò che il singolo cittadino non può evitare. Inoltre una proposta del genere verrebbe ad avere delle ricadute molto complicate. Prima di tutto se io abito in un'abitazione che ha mille anni o 500 anni non ha mai avuto danni da cataclismi naturali perché devo pagare un'assicurazione. Inoltre se io abito in una casa che è vicino a un fiume e vedo il fiume non dragato perché deve essermi impedito di dragare il fiume per abbassare appunto il rischio della mia casa. Inoltre quale sarebbe la conseguenza per esempio dell'applicazione di questa norma in zone che sono state alluvionate come quelle recenti della Romagna non tanto per una incuria dei cittadini ma perché lo Stato non ha fatto nessun lavoro. Chi risponde in questo caso all'assicurazione dovrebbe rivalersi sullo Stato stesso, sugli amministratori che non hanno fatto i lavori necessari. Quindi il tema anche se apparentemente sembra così attraente in realtà ha delle grandissime insidie al proprio interno. Dovrebbe essere affrontato in modo approfondito perché se no rischia solo di trasformarsi in un'altra tassa sull'immobili che viene a ricadere sulle spalle dei proprietari degli stessi. Senza se io voglio diminuire veramente il rischio devo permettere ai proprietari di fare tutte quelle operazioni che sono tali per diminuire il rischio stesso e devo obbligare le amministrazioni ad agire nello stesso modo. Grazie e vi aspettiamo su Scenari Economici per leggere questo articolo. Grazie e a presto.